ma come sono stata brava ed anche il dolce per il 14 gennaio è pronto proprio buono buonissimo ma cosa stai facendo la torta l'avevo fatta per festeggiare la web series di forte chiara manu ma vedi che mando ancora tanto al 14 gennaio e beh in effetti hai ragione ma sì dai avete fatto bene mi sa che la torta sarebbe andata male fino al 14 gennaio allora vogliamo prendere un altro pezzo ma sì dai vengo anch'io